e benvenuti e bentornati in un nuovo video dell smt io sono m e oggi vedremo un nuovo episodio della cam scope finalmente cam scope is back video diviso in due parti la prima parte sarò io il protagonista m la seconda s in questo video vedremo un semplice allenamento tra amici niente torneo semplice giocata tra amici buona visione ci vediamo dopo ciao 2 tango down ripeto 2 tango down sulla strada ne arrivano altri 2 3 arrivano dalla strada max arrivano dalla strada mi sparo addosso non posso uscire mi sparo addosso ed eccoci qui di nuovo quanto sono bello lì con l'elmettino comunque eccoci qua la camscope passa ad esse sempre in zona urbana ricordiamo che ci sono altri video con la hk 416 sia mio sia che di esse ora vedremo qualche kill del nostro carissimo esse a voi le immagini buona visione e se iangri stay biru dai che ti ho messo due volte sei la zoccola l'ho messo due volte l'ho preso l'ho messo due volte sei la zazzicola l'ho messo due volte aspetto ci ho messo due volte Sì Vieni bell'uomo, vieni Preso, troia Sei la zoccola Prendila, prendila, prendila Non c'è nessuno Un cazzo c'è nessuno Vai, vai, vai Come siete? Dai in difesa ragazzi, dai in difesa Tango dove? Ah lo vedo Bang Meno uno Bang Visto Vieni Ok, tango fuori Buono, buono Bravo Miki Musica Musica Grazie per la visione!